Cari spettatori, amici del Variettè, calorissimo pubblico, Buonasera, qui al Stellamato, nella prima parte del programma, venuto direttamente del Cairo, la famosissima Molita del Sudan, una danzatrice del vento, accompagnato, come sempre, della nostra orquestra Paolo Silvestre. Prego, maestro, a lei. Sono otto, sono otto di Catania, sono arrivato a Roma venti anni fa, sono qui per vivere, per vivere la mia vita, per mangiare, per rosso buco e rivivino. Ma tutti questo giorno, voglio inventare tutti gli amici miei, per celebrare la mia vita. Amici, grazie, grazie per venire, grazie per andare con me alla Caffè Romana. La via Veneto era molto speciale, con Marcello, con Luciano, con Verena la Sirena. Grazie per venire, è il mio nome otto di Catania, sono arrivato venti anni fa. Grazie per venire, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.